10 dicembre 1948. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e proclama la dichiarazione universale dei diritti umani. 30 articoli che ruotano attorno agli assunti inalienabili di dignità e libertà, sancendo per ogni individuo fondamentali diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Il tutto ispirato dalla volontà comune in tutti gli stati di evitare e ripetersi delle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale. Per riflettere sulla dichiarazione e sulla sua modernità 75 anni dopo, il Consiglio della Regione Marche, in collaborazione con l'Università Politecnica e l'Istituto Diplomatico Internazionale, ha organizzato un incontro con 300 studenti delle scuole superiori della Regione, perché sono proprio loro i giovani i nuovi custodi della dichiarazione e di quei diritti inalienabili. Sono i costruttori del futuro, sono i costruttori di pace e si devono ispirare alla Carta Universale dei Diritti Umani, perché la Carta Universale dei Diritti Umani è stata costruita, è stata scritta con quell'essere, cioè che ispirasse il futuro, ispirasse i giovani, ispirasse le persone. Una gravosa, anche se attuale, modernissima eredità, cioè quella di riaffermare in ogni contesto la tutela degli diritti della persona, che non possono essere messi in discussione di fronte a violenze, di fronte a sovrappazione, di fronte a sobrusi, di fronte in qualche modo all'impossibilità di esprimere proprio questi diritti in ogni contesto. Grazie a tutti.